Ogni volta che c'è una legge, come è giusto in democrazia, ci sono i cittadini che manifestano qui nel posto dove sono a favore e contro questa legge. Questa volta inizia ad esserci anche un po' di indignazione che sta montando fortemente nel paese contro una candidatura che il Partito Democratico ha voluto frutto della divisione interna che però divide. Prodi è una candidatura non che unisce, è una candidatura che divide e quindi anche i giovani del centro-destra si potrebbe dire che anche i moderati ogni tanto si arrabbiano.